Rinvio a giudizio per duplice omicidio colposo e falso del primario di urologia Stefano Zaramella. L'inchiesta condotta dalla procura è stata dir poco articolata. L'asle di Biella si è costituita parte civile. Sono stati 11 periti che hanno espresso le proprie osservazioni, spesso in contrasto tra di loro, ma che hanno portato al rinvio a giudizio. Al via, quindi, il processo. Intanto, l'azienda sanitaria locale ha diffuso una dichiarazione ufficiale nelle ultime ore, che letteralmente dice L'asle attende l'esito del dibattimento nel rispetto della decisione dell'autorità giudiziaria, ma ripercorriamo i fatti contestati al primario di urologia. Medico, tra l'altro, particolarmente apprezzato per le sue capacità professionali e chirurgiche, arrivato a Biella dall'ospedale di Novara. Ma ripercorriamone alcuni passaggi. Due, gli omicidi colposi per i quali il medico è stato interdetto per un anno. Rocco Baracalli, 75enne, morto nell'estate dell'anno scorso, dopo essere stato operato dal primario del reparto di urologia. In un primo momento, i familiari dell'anziano originario di Platì non avevano sospettato che il decesso fosse in qualche modo legato all'esito dell'intervento chirurgico. Le condizioni di salute di Baracalli erano d'arresto da tempo minate da uno stadio tumorale avanzato, peggiorate ulteriormente da una grave carenza di piastrine. Il primo medico a prenderlo in carico era stato il dottor Mauro Silvani, che si era detto contrario all'operazione. Decisa, invece, dal primario Zaramella. Il medico legale Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, città di Torino, al quale la procura ha affidato le perizie, avrebbe trovato delle precise correlazioni tra l'operazione e la morte. Collegamenti ancora più evidenti nel caso di Daniele Scheletich, il cui caso è citato anche nelle lettere anonime che hanno dato il via alle indagini. Nel corso dell'operazione, per errore, anche se pare quasi inverosimile, sarebbe stata effettivamente asportata la milza invece di un rene, una svista tanto grave da far riprogrammare un secondo intervento per i giorni successivi. Anche in questo caso, le cattive condizioni in cui il paziente, colpito da una forma gravissima di carcinoma, era arrivato a Biella, non avevano destato sospetti nella moglie che l'aveva accompagnato. I dubbi per le due famiglie sono arrivati quando sono state contattate e interrogate dalla procura. Intanto, un secondo filone d'inchiesta riguarda l'ipotesi di falso ideologico e coinvolge anche altri professionisti. Oggi, la sentenza della Corte di Cassazione, che non accogliendo il ricorso, conferma quanto espresso dal Tribunale del Riesame di Torino, che menziona l'interdizione per 12 mesi per il primario Stefano Zaramella.